È partita dal Teatro Ebessignani di Imora l'edizione 2017 del Baccanale, l'annuale rassegna enogastronomica culturale che quest'anno ha come tema il sottoterra. Tema suggestivo, sottoterra, quindi tutto ciò che è invisibile sotto i nostri piedi, alimenti nutrienti che fanno parte delle nostre tavole, alcuni anche alimenti che hanno sconfitto la carestia, per esempio le patate, quindi alimenti rustici, cipolla, scalogno, rape, ma anche alimenti preziosi come per esempio il tartufo, oppure alimenti nuovi come curcuma e zenzero. C'è la possibilità veramente di costruirsi il proprio viaggio attraverso 145 eventi e il Baccanale va degustato lentamente. L'ospite speciale di quest'anno è l'attore Paolo Calabresi, che ha dato voce al sesto canto dell'Inferno della Divina Commedia, quello dedicato al Girone dei Golosi. Ho tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima che io disperto. Qua, di sapori da scoprire e da riscoprire, in questo territorio ce ne sono tantissimi, tra l'altro, mi sembra un territorio che riguardo ha poco da imparare. La riscoperta delle cose della terra è sempre affascinante, devo dire, però quelle che stanno sotto terra e che ancora non sono venute fuori sono ancora più affascinanti. D'altronde il canto che andiamo a leggere parla di cose che stanno molto sotto terra.